Cosa succede adesso? La palla è di nuovo in Mana Berlusconi? La palla non è più in Mana Berlusconi. Un Presidente del Consiglio che sul rendiconto viene in aula e prende 308 voti su 630, in una qualsiasi situazione di normalità si dimette un minuto dopo. L'avrebbe già dovuto fare decine di volte per salvare il proprio Paese. Se non lo fa è evidente che noi dovremmo prendere un'iniziativa parlamentare per arrivare alla stessa conclusione a cui porterebbero le sue dimissioni.